Ciao a tutti e ben ritrovati, sono ancora in compagnia del nostro simpaticissimo artista Giulio Neri, oltre ad essere un grandissimo artista, lo scopriremo, ma abbiamo visto i primi quadri è anche molto simpatico, devo dire, è una parlantina che mi piace abbastanza comunque Giulio, ieri ci eravamo lasciati, oggi è doveroso riprendere il discorso di ieri che a parte ogni scherzo e quindi ci divertiamo anche però sono ragionamenti e riflessioni importanti intorno all'arte che è bello che vadano nelle case di tutti anche tramite, attraverso lo strumento televisivo che non sempre privilegia programmi d'argomento artistico se ne abbiamo la possibilità però perché non parlarne, perché non dedicare una riflessione proprio attorno a queste cose anche per i giovani e poi ne parleremo quindi torniamo in noi l'artista ha l'obbligo, come l'obbligo di studiare di rimanere legato alla tecnica, perfezionarla a costo di ripetere per innumerevoli volte gli stessi dettagli e particolari, non perché debba spociare in un iperrealismo che anzi è da parte tua rifiutabile ma perché, e perché l'iperrealismo sia l'unica arte possibile ma perché, solo perché, per poi liberarsene solo per arrivare a un punto della sua ricerca in cui l'artista può avere la consapevolezza di poter dire ok, l'ho acquisita, posso dimenticarla devo anzi devo anzi, non posso dimenticarla che è ciò che caratterizza Giulio Neri perché torno a dire, i discorsi sulla tecnica, sul seguire pedissequamente una tecnica da parte sua, sono ancora più importanti perché lui è colui che rifiuta la tradizione servendosene però, capito? quindi il devo abbandonare la tecnica sembra una parola messa al posto dell'altra ma in realtà ha una significazione importantissima devo abbandonarla, non posso è fatto bene a correggermi lo studio della figura di tua moglie simboleggia, che abbiamo visto ieri simboleggia proprio l'attenzione, la cura stilistica la cura dei dettagli, la ricerca quindi la tecnica la tecnica, uno studio che l'artista fa sulla tecnica poi? poi lo studio dei grandi maestri adesso io qui ho portato solo uno studio perché non avremo tempo qui abbiamo Pandolfo Malatesta fatto da Piero della Francesca naturalmente Piero della Francesca lo fece su era tela, su olio io invece ho voluto farlo su intonachino però rispettando i colori le proporzioni, tutto diciamo ma è arrivato a un certo punto si vede che era arrivato un momento clu per me e gli ho dato un pugno in faccia naturalmente l'intonachino si è sgritolato ho riattaccato i pezzi beh adesso mi piace ma a parte questo è sempre un'opera sua a parte questa battuta è stato un momento di rottura esatto però quello che testimonia questo quadro se sbaglio è che acquisendo la tecnica questo ritratto il ritratto il profilo del ritratto e Piero della Francesca sono l'emblema dell'accademismo della tecnica artistica di qualcosa di un modello passato esatto che tu hai riprodotto certamente ma a metà anzi neanche a metà hai riprodotto interamente mancano soltanto ho riprodotto interamente poi l'ho disfatto pochissimi no ma addirittura poi quello era finito poi l'ho rotto io ah era finito? come l'hai rotto? con un pugno veramente? si si ah mi sembrava una metafora no no si è staccato l'intorno cioè gli hai dato proprio un pugno ho detto basta questo è Giulio Neri comunque adesso devo fare vedere cosa so fare devo fare vedere perché noi adesso lo vediamo qui l'accademismo però è quello che prende a pugni avevo quel difetto lì però a parte questo c'è la coerenza diciamo io ho fatto tutti questi studi ho dimostrato a me stesso che potevo farcela e dopo di quello ho detto adesso fammi vedere se hai veramente della creatività fammi vedere se un buon pittore può diventare un bravo artista allora lì intanto mettiamo il punto come ho detto l'altra volta artista di me stesso io non potrò mai dirlo perché non lo ritengo giusto perché è come dire prendersi la laurea da solo uno va davanti ai professori alla commissione e sono loro se no è finito tutto però gli addetti a lavori vedendo cosa ho fatto prima e vedendo cosa ho fatto dopo stabiliranno cioè il percorso che ho fatto poi se sono riuscito a liberarmi e le cose che ho fatto sono veramente completamente mie perché io ripeto per me l'artista deve essere solamente una persona che riesce a fare solo cose solo farina del suo sacco le tendenze per me non hanno niente a che fare cioè ad esempio io sono ancora più come posso dire sono talmente ermetico e aperto nello stesso tempo eh infatti beh sì io non ho le vie di mezzo non ho le vie di mezzo ad esempio per me l'impressionista adesso io sto dicendo una cosa che magari qualcuno farà il salto sulla sede per me è Monet lui ha inventato l'impressionismo il resto è come posso dire è la corrente per me è la corrente il resto è la corrente non sai il grande artista è lui anche se gli altri lo sanno fare bene io sono fatto così cioè se io dovessi ripetere la cosa di un altro anche se la faccio anche meglio di lui non c'entra con l'arte è una copiatura bello brutta è un cercare di manipolare il minestrone sai girare la frittata però forse quindi tu non pensi nella nascita dei movimenti artistici ehm li rifiuto no aspetta fammi dire la nascita dei movimenti artistici come specchio di una riflessione comune non ci credi è uno l'artista è singolo ma ad esempio se prendiamo se non sbaglio adesso con le date tu no le date anche con i movimenti chi erano i blue writer mi sembra sì e chi c'era Kirchner sì ecco che erano gli espressionisti tedeschi per me lui è stata una della massima espressione poi dopo come posso dire lo vedi chi è il capo cioè non c'è niente da fare lo vedi allora io non voglio essere secondo a nessuno quindi io mi sono cercato la mia di strada perché nessuno potrà dirmi questo l'hai preso segue la corrente o fai ti voglio dire una volta che ho trovato la mia strada una cosa totalmente inventata da me che segue dei canoni però che segue una logica segue un equilibrio deve seguire sempre un qualcosa è una struttura è un qualcosa e trasmette soprattutto deve trasmettere perché l'arte è trasmettere qualcosa il bello è il brutto dell'arte non c'è il bello è una stupidaggine perché può essere un bel ritratto definito una bella faccia no magari io con un ritratto della mia faccia così brutta quant'è può essere fatto da uno veramente bravo diventa un bel ritratto perché è lui che l'ha fatto diventare bello il soggetto non ha nessuna importanza il bel soggetto non c'entra cioè quelle che sono le cosette da pittori e quindi ho speso la mia vita così e continuo così però c'è questo se uno mi convince di un qualcosa su cui ho sbagliato io faccio amarsi indietro però voglio le prove sempre io porto le prove tu mi porti le prove è bello questa cosa di te perché sei un artista ti ringrazio ma lo dico io lo dico io l'ho detto io non l'hai detto tu lo dico io tu sei un artista anche se io nel senso lo dico per me poi va bene chiudiamo però nello stesso tempo sei molto concreto no? sei molto razionale sono una contraddizione cosa che non si sposte sì sei una contraddizione sei abbastanza contraddittorio tu sono contraddizione però come posso dire in questa contraddizione segue una logica in tutte e due sì sì assolutamente come dire il bene e il male hanno una loro logica opposta no 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 infatti sei eghellianamente proprio sei un personaggio eghelliano perché sei contraddittorio però non sei con una coerenza diciamo cerca di dare coerenza alle mie contraddizioni non c'è antitesi tra le cose ma sai perché questo perché io fin da ragazzino mi sono sempre ho sempre fatto un gioco e che me l'ha insegnato una persona più anziana era un prete che si è sprettato ecco per dirtela tutta e mi diceva tu non c'è bisogno di andare in chiesa confessarsi fare tu quando è la sera quando i tuoi momenti fatti le domande cosa ho fatto oggi ho fatto bene o ho fatto male ma tu con te stesso e cerchi di scavare fino in fondo quindi non mentire a te stesso perché lo sai questo gioco se lo metti dappertutto compreso nell'arte nell'arte per esempio nell'arte tu se non metti a te stesso qualcosa viene fuori non c'è scampo tu non hai mai mentito a te stesso durante la tua carriera artistica ci ho provato non ci sono riuscito ah ti fatti ci ho provato nel senso che a volte avrei voluto ho fatto delle cose specialmente diversi anni fa che bello che bello che bello però che bello lo vedevo il giorno dopo non era bello era una ruffianata quella che si chiama cioè quei quadretti che dovevano accontentare chi li guardava io di fatti con quel pugno lì non ho solo rotto con la scuola ho rotto anche col quadro che deve piacere no il quadro deve trasmettere senti quel quadro quando è stato fatto? quello è il che ero della Francia ok quello l'ho fatto nel 90 nel 90 e beh sì no ma io ad esempio continuo a fare ancora i ritratti io non ho problemi che faccio cose come vedremo dopo e non faccio più i ritratti cioè io non li ripudio mica anzi a me piace ogni tanto misurarmi questo che abbiamo dietro le spalle invece che a mio parere è bellissimo è proprio grazie questa è stata veramente una delle prime storie dopo di quello qualcosa di mio racconta questa storia è stato fatto solo con l'acqua e il fuoco ho preso una tela ma cosa c'è della ceralacca? quella ceralacca sono tre simboli tre timbre che non si vedranno che poi ti spiegherò è bellissimo però quello è stato dipinto a mano libera senza disegno col fuoco con la fiamma poi dopo ho dato un po' di colore ma no non ho capito scusami col fuoco è presente la fiamma ossidica la fiamma ossidica e il disegno è fatto con la fiamma ossidica? sì sì fantastico ma io poi anche altri quello di prima non abbiamo tempo di farli vedere e di fatto se vedi ci sono le bruciature certo sì le bruciature dove ho dovuto passare di là e dove no ad esempio l'occhio la profondità è data dall'oscuro della fiamma capito tu meno stai più i capelli sono chiari perché sono passato leggero la barba è più chiara sotto al labbro qui con l'oscuro e passando un po' di più cioè invece del pannello ho usato la fiamma quindi completamente diverso come tecnica da tutti e poi lo strappo anche lì perché mi piaceva ma avevi già prima di questo sperimentato la fiamma ossidica? no no è stato un esperimento ma no io ho iniziato subito su un pezzo di legno la prima cosa poi andando su internet ho scoperto che c'era in America uno o due pittori che facevano queste cose ho smesso subito subito ho detto ma io non voglio fare anche se non lo sapevo penso che quel disegno che ho fatto su legno l'ho distrutto perché? ho detto io devo fare cose mie a me non mi interessa c'è una che ecco e allora ho detto perché non provo sulla tela ma sulla tela è molto più difficile perché il legno essendo più consistente tiene meglio il fuoco è così e da lì è uscita una serie interessante e i tre timbri sono stati fatti con le monete di due euro di un euro praticamente in uno l'ho un po' corretto e c'è una croce che indica le religioni in una c'è il profilo praticamente di Dante la cultura e in una l'uomo vitroviano la scienza che sono il senso di tutto perché noi non c'è il nostro quello che facciamo noi è il frutto di quello che abbiamo studiato delle religioni e il volto invece? il volto dovrebbe essere ispirato alla sindrome di Cristo e quindi non c'è una quindi se non c'è una prevalenza delle religioni tra questi tre simboli disegnando il volto no perché se te guai sì c'è la prevalenza da noi della religione certo non solo della religione da noi c'è la prevalenza della religione cristiana dell'icona ho detto icona però nel senso non volevo sì dell'icona però diciamo siccome io credo in certe figure anche se non so se sono esistite o no ma mi stanno bene è come se dovessi dire i dieci comandamenti a me mi stanno bene come principio a chi non possono star bene vanno bene come principio no no certo è una questione di regolare il famoso discorso se devi regolare il popolo dare un regolamento sono leggi e basta poi si rivedranno quello che è quindi questo quadro con i tre simboli la religione la scienza e la cultura è però il volto no? sì vuol dire praticamente che io quello che ho fatto è il risultato di quello che ho studiato di quello che mi è stato insegnato di quello che ho ricercato la scienza come ricerca cioè noi siamo il prodotto di quello che questa società la nostra famiglia le nostre conoscenze è più di quello che di come noi ci siamo evoluti nelle nostre ricerche personali quindi con l'autocritica con col pensierino della sera e tutte le cose certo certo capisco benissimo bene Giulio è stata una piacevolissima di nuovo è volata anche questa volta è stata una piacevolissima conversazione ci ritorneremo domani vi rimando all'appuntamento di domani sempre con Giulio Neri mi raccomando seguiteci ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti